Vino, ottimo cibo, musica e spettacoli è il mix della 44esima edizione della mostra dei vini di Montepagano di Roseto degli Abruzzi. Si parte venerdì 24 con la serata inaugurale, l'apertura degli stand enogastronomici, il talk show in piazza e il wine show con uno dei maggiori esperti di vini in campo nazionale ed internazionale, Alessandro Bocchetti. Poi si replica il giorno successivo, sabato 25 e poi domenica 26. Abbiamo rimesso al centro dell'attenzione il vino, abbiamo quest'anno Alessandro Bocchetti che ci guiderà in queste scelte di questi vini pregiati quindi il borgo sarà in festa e ci sarà il percorso, diciamo il solito percorso quello che gli utenti potranno fare tranquillamente acquistando il ticket acquistando appunto la sacchettina con il bicchiere. Ci saranno delle novità quest'anno, ci saranno delle dirette televisive, quest'anno però abbiamo voluto puntare anche sul ridarlo ai paganesi, alle associazioni locali e coinvolgendo tutto il quartiere. Ecco ci aspettiamo grande collaborazione da parte di tutti i cittadini di Montepagano. Nelle tre serate inoltre si potrà prendere parte previa prenotazione a tre diverse cene gourmet con gli chef Gabriele Marrangoni, Alessandro De Antonis e Daniele Zunica. Per accompagnare alle degustazioni dei vini grandi protagonisti anche grazie alla partecipazione del consorzio dei vini colline del Terramano, anche grandi piatti del territorio. Come è stato fatto negli ultimi anni quest'anno si punta sempre più in alto aumentando la qualità delle cantine e del cibo offerto ai commensali. Come sempre c'è un ospite che viene da fuori regione. Sì, sì, tra le cantine abbiamo quest'anno abbiamo scelto di creare un confronto costruttivo con il Lazio.